Alessandro Ruzzi, questo è l'evento di lancio della sua candidatura a sindaco. Perché ha deciso di fare questa importantissima scelta con la lista risorgimento aretini? Sono stato indicato dal comitato e è stato un piacere e un impegno perché la nostra è un'attività di carattere civile. Quindi ci vogliamo porre all'evidenza della città per tutelare gli aretini meno privilegiati, quelli che non hanno avuto e quelli che hanno diritto di avere, specialmente da un'amministrazione comunale che negli ultimi anni si è dimostrata completamente indifferente agli aretini più bisognosi. Tra l'altro lei ha frequentato spesso il Consiglio Comunale, l'ha osservato e l'ha trattato in modo critico. Di cosa ha bisogno questa città? Quali sarebbero i punti principali da affrontare? I punti principali sono tanti, ma è l'approccio che deve cambiare. La buona fede deve governare le azioni di governo. Perché uno può essere più o meno bravo e i suoi risultati possono essere più o meno fortunati. Ma l'importante è che ci metta il cuore, il buon senso e la buona volontà. Non l'ho vista in Consiglio Comunale, non l'ho vista in altre sedi e la nostra volontà è quella di dare voce a chi non ha voce. Ecco, Arezzo e la disabilità, Arezzo le deboli categorie, come la vede in questo momento? Come dovrà essere? Il confronto che ho potuto fare nel corso della mia vita da normale, l'ho avuto con realtà normalmente più evolute di quella retina. E il confronto rispetto in generale all'Italia è spesso deludente. Però Arezzo ha una tradizione storica di grande prestigio, di grande importanza. Non credo che avere i marciapiedi in gombri di cassonetti della spazzatura o di pali segnaletici sia una risposta ai bisogni non solo dei disabili, ma anche degli anziani, delle famiglie con un passeggino, di chi passa con la spesa che si deve districare fra le macchine parcheggiate in maniera un po' casuale. Siamo noi i primi a dover comportarci correttamente nei confronti degli altri. Che campagna elettorale farà lei e che cosa vede intorno a lei? Siete per adesso sette candidati a sindaco scesi in campo. Non le nascondo che io vedo solo in verità due competitori, perché sono gli unici due che hanno le caratteristiche minime per competere alla carica di sindaco. Occorre secondo me che il sindaco di Arezzo sia una persona laureata, con determinate esperienze e risultati nella propria vita, un aretino senza conflitti di interessi e con disponibilità di tempo. E mi riferisco quindi al fatto che vedo soltanto quelli che vengono indicati come due cavalli di razza, come interlocutori laureati e in grado di, gli altri per quello che ho visto io non li voterei.